Salve a tutti un nuovo video, questo video vi porto a Verdun, preate con i video, vi dico il tuo canale e lasciate un ecco, adesso partiamo, e nel scorso video avete fatto e visto quello che è, oggi siamo in, non so, non so, non so, non so, partiamo, comunque, nel scorso video avete visto che, di nuovo parità, cioè, io non capisco come è possibile, cioè, arriviamo anche quasi, a me sembra che la mia squadra non hanno sparato bene, non hanno, cioè, forse qualcosa hanno fatto un pei storto, cioè, non è possibile che siamo a parità, non è, non è possibile, scusate, cioè, io non capisco perché, questa volta non speriamo che, non, non parità, please, cioè, cioè, perdiamo, vinciamo, cioè, ragazzi, io penso a te, cioè, perdo, vinco, a me non mi, a me non mi interessa, a me interessa solo, che, 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 come si fa, va bene, comunque, c'è a me interessa, che, non in parità, ma, c'è, perdiamo, vinciamo, ma non parità, per la sicurezza, controllo, se abbiamo la maschera, sì, è stato che, quella ce l'abbiamo, quindi, allora, dove sono? non trova nessuno, con le stesse stanno, ma, ma, quindi c'è anche una uscita, odiozza, ma, ma, che, che, ñguro,יכno, ecchissimo, ma. il diamato sotto la destra, torna, questo miracolo abbiamo bene dai all'attacco il attacco ci metiamo ci metiamo il tappeto a tutti a tutti aspetta piuttosto non, 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 non che non ha funzionato nulla che mi sa fare questo è perda scusate scusate vado qui ho fatto un danno alle squadre non dovevo vi spostate vi spostate ok tu ti spostate no eh adesso adesso vantare la cosia si anche loro hanno un punto maledizione aspettate c'è anche se io odio una cosa di questo gioco adesso c'è sto cominciando a odiare una cosa c'è benissimo non c'è facciamo una guerra benissimo ma noi non facciamo un pareggio un pareggio no se facciamo il pareggio è un problema c'è c'è cos'hanno chi sta fumando qui c'è chi sta fumando nessuno fumi per favore nessuno devono c'è stiamo facendo una guerra non c'è non è una guerra c'è chi si muove altrimenti chi si muove un po' lentamente oh ma chi pensa che deve essere no che come adesso scusa adesso come è possibile che ho fatto danno alle squadre si stava sparando impossibile da faccio un danno alle squadre bene 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 ma ve ne spostatevi faccio cos'è io sto qua voi sparato è morito vetti che prendo non è morto anche questo io vado al tanto mi hanno imparato inutile non è vero anche qui è vero c'è cosa c'è l'altra cosa c'è la gente anche da questa parte Questa è una mascarina Tanto mi hanno sperato di mettere la mascarina Mi hanno sperato Mi hanno sperato Quindi c'è la mascarina C'è quando io esco di casa Quando andavo a scuola Mi dicevano che La mascarina è importante Quando vengo a scuola È alta Ma qui La mascarina Dice che la mascarina Non possiamo nemmeno Ma No 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 Come abbiamo due punti Due punti Abbiamo qui Abbiamo due punti A me non interessa All the mine All the mine All the mine C'è Ti ho detto qui Per la sicurezza Ecco Si immaginate Da una corsi Segui I I Ok Dai I I I non c'è spara non vale non vale non c'è spara quindi capite non vale non vale non unghetto 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 non l'ambino non 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 sono di quanto riguarda è adesso ok non ci sono, non ci sono si è quello che è non ci sono qui no 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 avete visto che è sparato è sparato dai c'è oppa due tre punti noi abbiamo due tre punti e abbiamo bene una volta vedete qui vecchio bravo andate andate distanza libera distanza distanza libera possiamo andare ma sai se ho dato distanza libera come come questi due sono ritornati ho detto distanza libera tanto niente non so da dove sono saltati fuori ma era non era libero questo è vero era libero con credo sta registrando di notte non lo so alle 10 16 alle 10 nel 28 luglio mercoledì nel 2021 ma intanto è stato sparando ci stavo per sparare quello capito speriamo speriamo che avete capito che stavo cercando di sparare questo cioè non mi lasciano il problema è questo non mi lasciano cioè non è colpa mia non è colpa mia non è colpa di loro bene 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 no no non dirmi via tanto adesso ho pensato forse erano i miei amici cosa sapevo un minimo di nuovo a fare ah 4 su 3 guarda arrivati 4 su 3 mi sento benissimo adesso mi sento un po' tranquillo voglio che il tempo adesso finisco un po' un po' veloce ecco dai voglio come la rigenerazione non è più valida il punto non è a me non interessa dai voglio please ah ok grazie forse devo fare una cosa non è io penso che forse tutta la registrazione devo stare li fermo ma no cioè come ragazzi vi dico che come ragazzi come ragazzi vi dico che questo questo gioco mi sta più a piacere perché perché ti giocano giorgi peggiorgi di peppa pig capito no 4 4 con 4 non l'accetto 4 con 4 non l'accetto dai benissimo 5 5 stiamo qua ok stiamo qua tanto anche io vado perché se loro non mi ascolta c'era c'era guarda guarda bene no io non andiamo da questa parte al posto di parlare mettiamoci maschera rilasciatemi please c'è adesso costato te mettiamoci già la maschera perché dentro forse c'era c'è il gas risposto non mi interessa ho anche sparato ok se siete sordi non so cosa dovete essere colpito quando sparo che non è non potete fare così dovete essere sparati e sto muovendo calma non è chiesto ma c'è andato ma c'è andato ma c'è andato via non c'è andato 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 è per no 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 ma andiamo di approfondimento eh cambio idea comunque dai 6 con 5 dai mettiamoci 6 con 5 6 con 5 è tutto per dai eh capito che attacca capito che dobbiamo attacca e anche voi attaccate non fate così dalla prossima volta non vado più addosso dalla prossima volta non vado addosso comunque eh bene c'è comunque va così da via sì dai questa volta vado da questa parte c'è c'è cos'è questa? ah un cavallo un cadavere scusate un cadavere di cavallo qui non c'è non si può andare bene 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 c'è dai dai 6 con 5 no c'è c'è la tecnica è questa ragazzi ti spari e dentro ti spari e dentro e dentro dai dai non si non partiamo dal pareggio dai 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 dentro 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 questo qua bene dai 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 per per quello l'ora colpa delle squadre che mi hanno lasciato le dimissioni ciao ho una pistola ma perché non so se posso cambiare no No, non riesco Non facciamoci cinque con cinque Io stavo sparate, fate quello che volete Io non vado adesso No, no, no Ragazzi non adesso Finchè c'è questi rumori, c'è un po' E abbasso questo vino Dai Cosa sta succedendo qui? Desfaro anch'io un po' Se non c'io cosa sono venuto a fare dai Di nuovo Non so se stai con cinque da lì Allora, non siamo tutti Via, 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 via D'accordo Per colpa boss Prendiamo che Vai guardare qui sta dentro alla parte Non è Sì 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 Questa cosa? Quanti questi sono punezini? Questa cosa? Ah dai! Ah va a vedere se va agliato Va a vedere se va agliato Ho fatto Prova attenzione Non è perdita niente Non è che ho fatto un'attenzione Non è che ero un'attenzione Non alziamoci più Cioè alziamo intendo ragazzi Noi non alziamoci I punti non si alzano 6 con 5 Benissimo Non faccia male Comunque la mascherina ragazzi E' un'attenzione Ok C'è il cosa Il gas E' un'attenzione Benissimo All'attenzione All'attenzione E' un'attenzione Bene E' un'attenzione Occhio No 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 6 con 6 non esiste 6 con 6 non esiste 6 con 6 non esiste Cioè se anche oggi è un pareggio guarda Non esiste Dai da voi io non mi spero queste cose da voi avevo sperato ma non ce n'ha capata c'è da voi speravo altre cose c'è voi sparate bene c'è l'avevo sperato così ma non abbiamo un poco tempo poco tempo dai ti ha visto qua sono morti questi ma io ah no cos'è cos'è ho anche sparato ma no no in realtà avevo in realtà in realtà avevo sbagliato dai sparato dobbiamo dire no c'è non esiste non esiste non esiste non si sta affatto dai muori c'è 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 al 7 bene bene al 7 fortuna no non morita adesso non morita ma come sono vivo ancora mi sparo anche io ah possiamo andare via via bene bene vittoria finalmente una vittoria oggi una vittoria finalmente appunto grazie comunque ragazzi se vi è piaciuto il video lo lasciate anche sul canale quindi vi saluto e ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti